Musica Mi chiamo Johnny Molese, ho 20 anni, sono nato a Milano e vivo in una zona qua a Milano che si chiama Quarto Cagnino. Faccio carpintiere, muratore, piastrellista e gioco a calcio. Sono come ruolo portiere, ormai lo faccio da 13 anni. Il mio sogno del cassetto è giocare nella nazionale italiana, fare un passo così grande e spero che arrivi presto. Le mie passioni vere sono il calcio, tatuare e vabbè la mia ragazza.